Ma guardi, i territori sono tutti rappresentati in Consiglio regionale, la Giunta può esprimere e deve esprimere una visione complessiva, quindi io capisco anche in questo senso sicuramente la soddisfazione di qualche territorio e la soddisfazione di qualche altro territorio, ma è il nostro preciso impegno e mio preciso impegno di rappresentare tutti i territori in una visione complessiva. È un po' il problema della nostra regione, che si è spesso frammentata, divisa e non è riuscita mai a esprimere una visione unitaria. Noi vogliamo provare ad esprimere per il tram di questa squadra una visione unitaria.